è secco, è secco, ma qualcosa si può forse trovare come dice sempre quel tipo macinetter, caro il mio macinetter gamba non tanto tosta non è brutto, salendo da questa sponda un po' abbandonato qua anche a maggio si possono trovare dei funghi maggio giugno si possono trovare dei funghi che sono strani perché sono non sono strani un po' rossiccio, un po' di castagno trovato, che cosa sei? trovato, questo cosa significa? ecco, una volta proprio sul sentiero vieni che piove! dove vai? dove vai? vieni che piove! ma anche quando piove... cosa c'è qua? cosa c'è? cosa c'è? cosa c'è? oh 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 thunder! oggi vi parleremo del fungo tavolino il fungo tavolino è a volte slanciato con una cappella piatta si può a volte trovare anche in coppie come in questo caso doppio fungo tavolino e per finire a volte tu segui il percorso di due belle amanite un'altra bella amanita qua vai 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 e si chiude in bellezza con quest'altro fungo non giovanissimo ma bello comunque non giovanissimo ma bello